Greenpeace ha consegnato all'isola di Lampedusa e al sindaco Giuse Nicolini l'impianto fotovoltaico da 40 kilowatt acquistato con un progetto di raccolta fondi a cui hanno partecipato quasi mille persone. Grazie alla campagna Accendiamo il Sole, portata in tour in tutta Italia dalla nave Rainbow Warrior, simbolo dell'associazione ambientalista. Accendere il Sole a Lampedusa significa spegnere le trivelle a mare e improntare a sostenibilità tutto lo sviluppo di Lampedusa, delle isole del Mediterraneo sia quello turistico ma quello anche economico in generale e le rinnovabili vanno molto a braccetto con lo sviluppo solidale. Greenpeace, grazie all'aiuto di Enerpoint che ha venduto l'impianto a prezzo di costo e della fondazione Casa di Love che ha coperto i costi relativi all'installazione, con la campagna Accendiamo il Sole ha sbloccato un piccolo paradosso. Il comune di Lampedusa infatti aveva partecipato a un bando per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ma a causa della burocrazia l'impianto è stato autorizzato quando il bando era ormai scaduto. Ora l'impianto è realtà e i lavori dovrebbero essere ultimati entro un paio di settimane. Alessandro Gianni, direttore delle campagne di Greenpeace Italia. Noi pensiamo che questo sia un segnale importante, è importante che i cittadini abbiano sostenuto molto velocemente questa richiesta di fondi per Lampedusa ed è importante che da Lampedusa si cominci a parlare di rinnovabili sulle isole italiane che possono essere un laboratorio dove sperimentare quella rivoluzione energetica che tanto ci serve. Grazie all'impianto il comune di Lampedusa risparmierà quasi 200 mila euro in 25 anni evitando l'emissione nell'atmosfera di circa 300 tonnellate di anidride carbonica, l'equivalente di oltre un milione di chilometri percorsi in auto. La Rainbow Warrior invece resterà per un po' nei mari siciliani per sorvegliare i cetacei, dopodiché farà rotta su Marrakesh in Marocco dove il 7 novembre inizierà la COP22, l'annuale conferenza mondiale sul clima. Grazie a tutti.